bene così, l'obiettivo Charlie è nostro ah si ah si ah dove cazzo hanno sparato ah eccolo bastardo come ho fatto a non ucciderlo ah, ucciso indicalo, indicalo quando lo vedi stanno attuando, stanno attuando stanno attuando, stanno attuando ma non so quanti ne sono una headshot un'altra headshot un'altra headshot hai visto in alto guarda in alto a destra